In occasione delle giornate europee del patrimonio 2022 dedicate da Italia Nostra al tema delle mura urbiche, Italia Nostra Foggia, d'intesa con il presidio di Lucera e con la sezione di Troia, ha deciso di aderire a questa campagna, sebbene in queste tre città non sia più presente da tempo una cinta muraria che si sia ben conservata nei secoli, ma solo alcune vestigia e lacerti delle antiche mura, talvolta inglobate nell'abitato, talvolta trasformate in edifici con diversa destinazione d'uso o ancora smembrate dopo la distruzione dovuta ai venti sismici e bellici per la ricostruzione poi di abitazioni comuni. Il senso di questa partecipazione, nonostante l'assenza di una cinta muraria evidente e tangibile, non può che essere quello di conservare la memoria e la storia e una più approfondita conoscenza di quella cinta muraria che con una certezza quasi totale doveva esserci fino a un certo momento e che poi è scomparsa per una serie di vicissitudini che andremo ad analizzare. Foggia è una città aperta, si sa, è una città di pianura, appunto di intersezione di antichi tracciati viari, aperta ai traffici, ai viandanti, alle greggi transumanti, risponde quindi a un modello insediativo del tutto lontano da quello collinare arroccato di natura difensiva e di sviluppo intimamente feudale. Difficile pertanto immaginare che un tempo avesse delle mura poderose, tanto che gli stessi studiosi non sono concordi sull'esistenza di una cinta muraria o quantomeno sulla sua tipologia, se avesse per esempio solo un fossato o delle fortificazioni provvisorie oppure vere e proprie mura. Nell'area Dauna altri centri hanno assolta questa funzione difensiva, tra cui Lucera e Troia, tra i più floridi, più potenti e più importanti di sicuro di Foggia, in tempi nei quali prevaleva il modello dell'incastellamento a scopo difensivo. Una parte degli studiosi è comunque portata a ritenere che il nucleo urbano fosse circondato da mura difensive e che in fasi successive siano stati presenti anche delle torri. Nel 1125 la città appare effettivamente dotata di mura dicinta, come si può rilevare da un documento del febbraio di quello stesso anno. Verso la fine del dominio normanno e probabilmente dal 1187 al 1190, le mura erano a loro volta circondate da un ampio fossato e proteggevano il nucleo abitato che all'epoca si articolava su un tratto dell'attuale via Arpi con al centro la chiesa di San Tommaso. Ampliate sotto Federico II, quando via Arpi assunse le attuali dimensioni da Porta Grande a via Pasquale Fuiani furono proprio dallo stesso imperatore fatte abbattere nel 1230 per punire i cittadini rei di tradimento. Non può sfuggire poi che lo stesso palazzo di Federico aveva proprio le caratteristiche di un edificio fortificato. Si può presumere che la primitiva cinta fosse rettangolare e basta tanto da iscrivere il palazzo e gli impianti accessori come scrive la storica Calò Mariani. Dai documenti d'epoca comunque si rileva che inizialmente le porte erano soltanto due, poi diventarono cinque. Verso la metà del XIV secolo le mura ricostruite presentavano appunto cinque porte e naturalmente anche il fossato. Nei secoli successivi la condizione delle strutture difensive della città necessitando di frequenti interventi di manutenzione determinava l'esigenza da parte dell'autorità pubblica di riscuotere delle imposte proprio per l'ordinaria manutenzione delle mura e quindi questi documenti certificano l'esistenza di una cinta muraria. La più antica pianta della città di Foggia, quella della Biblioteca Angelica di Roma risalente agli anni Ottanta del Cinquecento, mostra la città contenuta ancora nell'originario perimetro delle mura che restarono integressi in verso la metà del secolo successivo. Vi compaiono in maniera preeminente i due tradizionali poli di aggregazione sociale, la piazza della cattedrale e quella dell'antico palazzo Dogana. Via Arpi viene rappresentata come l'arteria interna più importante di Foggia e asse privilegiato degli scambi mercantili. Nella seconda metà del Seicento le impellenti necessità di espansione dell'abitato portarono alla completa distruzione della cinta muraria di cui restavano ancora tracce all'inizio del Settecento e come vediamo infatti in una pianta di quell'epoca. Altre piante riportano invece una città senza mura, priva completamente di mura, generando quindi delle incertezze, delle contraddizioni. In ogni caso la città si stava espandendo e quindi usciva fuori da quel perimetro rappresentato dalle mura o dal fossato. Già prima del disastroso terremoto del 1731 Foggia comincia a svilupparsi oltre appunto il perimetro delle antiche mura. La città situata al centro di una estesa pianura era in crescita e quindi aveva un ruolo sempre più importante come mercato di vari prodotti legati alla pastorizia e i cereali. Si espande quindi oltre il centro antico superando mura e fossato e aumentando progressivamente la sua estensione. La prova insomma un importante elemento dell'esistenza delle antiche mura potrebbero essere le porte o i toponimi che rimandano all'esistenza delle porte e in particolare intanto abbiamo una porta importante ancora oggi che è un segno tangibile della presenza delle mura ed è porta grande chiamata in un primo momento Maniaporci di cui si ha già notizie in un documento dell'inizio del Quattrocento e che già forse dal primo momento assunse questo nome in contrasto con una porta che si trovava all'estremo opposto di Viarpi che era chiamata porta picciola. Poi se ne aggiunsero altre come Porta Reale e Porta Porta Nova o San Tommaso detta di San Tommaso la presenza di queste porte o comunque dei toponimi che ancora oggi permangono sono un'ulteriore testimonianza a favore dell'esistenza di queste mura che molto probabilmente dopo il terremoto del 1731 se ancora c'erano dei lacerti furono smembrate per colmare il fossato e quindi sono poi diventate le due strade perimetrali della testa di cavallo, la forma del nostro centro storico è notoriamente a forma di testa di cavallo e proprio il centro storico ci dà un altro indizio della presenza se non delle mura quanto meno del fossato perché se si procede da Viarpi verso le vie laterali in direzione di via Garibaldi e di via Manzoni ci si imbatte in delle scalinate che sono la riprova del fatto che c'era un dislivello o un fossato e che quindi con molta probabilità al fossato si dovevano accompagnare delle mura. Qual è l'obiettivo di questa nostra campagna? È come dicevo più che batterci per conservare e valorizzare delle mura di cui rimangono solo poche tracce e far conoscere e acquisire consapevolezza a una cittadinanza che crede che Foggia non abbia una storia, una vicenda degna di essere raccontata, che in realtà non è così e che per sviluppare nelle nuove generazioni il senso di appartenenza bisogna scavare nel passato e andare in traccia anche di ciò che oggi sembra definitivamente scomparso. Grazie a tutti.